Eeeh... Bella a tutti ragazzoli, bentornati sul canale col vostro Alebbene86 Buon martedì 23 aprile a tutti, bedazzi Voi state vedendo il video di martedì? Ma io lo sto registrando di lunedì E quindi come dico io, iniziamo la nostra settimana videoludica Nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sul pezzo con i football 2024 Se ti fa piacere rimani sintonizzato sul video perché tra poco si parte Ho visto già i video in discrezione... No, in discrezione, video ufficiale, pool, nuovo, buyer Regà, non ci soffermiamo, lo squadrone ce l'abbiamo C'è un Lam che mi stuzzica ma lì abbiamo un certo Roberto Carlos che fa lavoro sporco Quindi non neanche Lothar, Matteus, onnipresente Se nel video precedente abbiamo concluso l'evento i football championship open Oggi prenderemo lo Scarsenal e ci buttiamo nell'inferno del campionato i football Quindi, l'attesa è finita, si comincia Campionato Dream Team, vamos! Ole Bedazzi, che vi dicevo? PlayStation 5 appena accesa Finita di travagliare, mo mo, eccoli qua Vabbè, Romario già c'era Bayern, c'è Lothar, Matteus che ho visto onnipresente Philippe Lam, terzino offensivo E Van Buiten direttamente dai Vatussi Alto 197 cm difensore incontrista, regà Non mi interessa nessuno dei tre, sono sincero Io aspetto se è veramente come scalpita la community Un certo Lilian Thuram direttamente dalla Francia che giocava il calcio Andiamo avanti Bonus d'accesso al giornaliero pari a 10.000 GB E basta, regà E basta Come di consuetudine, il rituale Caffettino, regà E sigarettino Con i veri, così ci intossichiamo Che ho finito le... Le terrea Andiamo alla finestra, sennò Mia moglie che non fuma Mi taglia le palle, regà Allora, cos'è? Andiamo proprio da lui, eccezionale Castolo Consigli per vincere Ah, sì Allora, parte Castolo dagli 11 metri Col destro più famoso del tubo Carica al massimo la butta dentro Ok Adesso il prossimo giro è l'accordo al buio, regà L'unico che merita un po' l'attenzione è Cialanoglu Savice, l'altro che manco mi ricordo come si chiama Niente Ok, ne avanzano 20 Andiamo avanti Ok, speriamo bene oggi, regà Allora, ieri Voi state vedendo il video di martedì Lo registro di lunedì Quindi dico ieri, domenica Regà, domenica Per me con la FWA È un'esperienza videoludica Non di merda Di più Ci ho lasciato 200 punti Ero quasi a 1700 punti I punti fatti in settimana Ieri ho giocato Vabbè, chi interagisce con me nel mio gruppo Telegram Sa benissimo la situazione Perché io condivido le foto Nel gruppo 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 che troverai nella descrizione del video Quindi se vuoi venire a condividere la tua passione con noi Sei il benvenuto L'Ale Benicryu Poi cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Io lo so benissimo ormai Di pomeriggio la mia connessione è una merda La domenica Con l'infrastruttura di Konami che è più satura ancora del solito È ancora peggio Ho giocato ieri notte E ieri notte ho recuperato 140 punti Raga, ho fatto 7 partite e 6 vittorie Lo Scarsenal si presenta così Ho cambiato anche un pelino il modulo Da cercare di uscire un po' dalla merda Raga, scusate il francesismo Perché lo sappiamo benissimo Che ormai i moduli oggi voli, domani non voli Questo qui Su 7 partite, 6 vittorie Poi è arrivata una sconfitta con un avversario forte Oggi startiamo Ricominciamo così Quindi, partita Campionati di football Eccole qui, raga 1617 Abbiamo recuperato la situazione Ero quasi sceso in terza divisione, raga 1500 punti da 1690 In un giorno solo, raga Ha dell'incredibile se non gira la linea Ok, quindi Siete pronti? Sì che siete pronti Siete gli ultras dello Scarsenal Che cazzo ve lo chiedo a fare? Quindi si parte, raga Vamos, primo sfidante di giornata Vediamo, andiamo a arrancare Come dice Renzino lo scan Attaccante di rientro Attaccante di rientro Io ho Neymar Del Santos Il più forte Che ho Attaccante di rientro Non mi piace come stile Versario trovato 5 Le tacche di latenza Speriamo bene Qui diluvia, raga Alessandro Polo Anche lui è in seconda Ezechiele 2517 Attenzione Direttamente dal Vangelo Che gioca Ai football Ezechiele Allora Andiamo Allora, lo stadio Cambiamo lo stadio Raga Il vostro Alebbene Indovinate dove vi porta Dove vi vuole portare Il vostro Alebbene Minchia Vi porta a Dunsternam Raga Minchia Andiamocene tutti quanti A Dunsternam Lo Young Crew If Arena Andiamo a fare Bordello a Dunsternam Allora, avanti Nera, gialla Sì, perché la seconda Lui bianca Non ce l'ha Bocai Junior Ok Vediamo come si presenta Lo Scarsenal Lo Scarsenal Si presenta bene Vinicius Sombapé Ronaldo Che parte dalla panchina Perché con quella Carta riserva di lusso Le ultime sette partite Entrato dalla panchina Ha fatto 6 pere Raga Quindi Quello che gira Non si cambia Lasciamo così Lui si presenta Attenzione Modulo molto simile al nostro Solo che è controattacco Occhio a quei due Mastini lì davanti Mediano Collante Rijkaard Patrick Io ho deciso di togliere Il collante Gilberto Silva E dare un po' più di qualità In mezzo al campo Con i piedini Fatati Di pedrito Regà Che non è in versione Epic In versione Champions League 99 di VGG Di overall È buono È buono Come giocatore Mi piace Allora L'abbersario è pronto Proviamo a rialzare la testa Raga Proviamo a rialzare la testa E a macinare punti Arrancare Vamos Si parte Allora Da quanto registo Sette minuti Intanto Intanto Prima di partire Regà In un video precedente Avevo detto Che per raccorciare i tempi Perché la gente Mi vuole vedere subito Andare a giocare Nell'intro Di qui di là Non arrivavano i saluti Il vostro Alebbeni Ci ha ripensato Non esiste mai Nella vita Una cosa del genere I saluti I ringraziamenti Ci devono essere A prescindere Secondo me Anche se il canale Cresce Quindi Invece dell'intro Nel finale del video Arrivano i saluti Alla community fotonica Vamos adesso Maldini scuscia Occhio Alebbeni Contra Alessandro Attenzione subito Verticalizza Lo zio è messo Al posto giusto Al momento giusto A far ripartire lo scarso A piedi Ronaldinho Neymar Neymar Vinicius Di tacco per Messi Attacca la profondità Pedrito che si sovrappone Ancora per Messi Che c'è i piedi buoni Per dargliela Eh ma Patrick C'ha il fisico Bravo lo zio Tutta di là Mi incontro Mi esce benissimo Lui È tutto chiuso Fa girare bene La palla Allo Scarsen Adesso Non entra Neymar Rijkaard No 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 Volevo Digno Occhio Robby Tienilo Occhio adesso Sale in cattedra Sale in cattedra Il brother Taglia bene Switchamelo Miracolo Immanuel Pedrito Soffre lo Scarsenor Esce bene Patrick Contropiede dello Scarsenor Adesso Digno Dimashio Madonna rega Entrano tre Di croc E la butta lì Peter Cech Non può nulla 16 sul cronometro Cambia il parziale Sempre lui Eccezionale O'Neill E che si fa il selfie Raga Bounce Gioga Bonito Occhio Tieni la Robby Sciabolata Robby Che ce l'hai Dove però c'è lui Attenzione Patrick Uuuuh Digno Si mette in proprio Digno Tenta il fine Sonei Ancora Digno L'intercetto non va Viene giù lui Adesso Con Messi Attenzione Paolino Nazionale Messo bene Va da Cech Che va lontano Dove ce l'ho Messi Eh mi mancano centimetri Adesso alziamo le tacche Salta Leo Patrick Vinicius Uh è passata Taglia il campo Bella 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 Questa Madonna L'abbiamo sculato Raga Eh ogni tanto Un po' di culo ci va Ci va anche quello Raga Sale in cattedra Tutta di là Digno Bellissima Donna sto Bellissima 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 Mmm Quel pizzico di delay Maledetto Calma Brutta Brutta Patrick Brutta Bravo Billy Ci metto una pezza Attenzione Maldini che esce benissimo Pedri però Pedrito Prende il fallo Vi era cattivo Pedri piglia Guardatelo Ma se era là la battuta Ma perché ha fatto St'animazione Per non farmela Battere subito Per non farmela Battere subito Raga Pedrito che la vuole Qui sui piedi Dilla Dalla Ma è che ci penso io Subito così Pedrito Tutta Animare Madonna Non va Occhio Robin Nel buco Passato Ancora Suova posizione Attenzione Paolino Nazionale Salta nei mai Occhio Patrick Madonna Paolino In forma di Grazia Raga Brutto il passaggio Ancora Paolino Raga Ancora Paolino Sì Madonna Madonna Raga Madonna Fantasia Il potere In mezzo Al campo Di digno Gioca Bonito Se ne va Occhio Tutta di qua Ah Il miracolo Immanuel Sei girato Di schiena Raga Ma c'è Ma può girarsi Di schiena Peter Check Immanuel Ma robe Dell'altro mondo Tutto da rifare Ci sbatte in faccia L'esultanza L'avversario Qui stop Riabiti Alessandro Ci fa vedere L'esultanza Ci sta Ci sta Cerca di giocare Sui nervi Del vostro Del vostro Alebbene Roby Recupero Occhio 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 in quei minuti Patrick Digno Vabbè Finisce così Buono al primo tempo Il buon Ale Sal fatto su Raga Però secondo me Merita di più Lo scarsano Anche se abbiamo fatto Un tiro Un gol Non stiamo giocando male Però Raga Allora Cambia qualcosa No Cambia nulla 3158 3146 Sulla carta È un pochino più forte Anche dello scarsano Vabbiamo a secondo tempo Raga Dove tornare a vincere Bellissimissimissima Bellissima Perde il tempo Della giocata Mamma Dio Santo Ho perso il tempo Della giocata Raga Le mie minchiate Epotoniche Messi non trova vita facile Sull'auto di destra Con un certo Roberto Carlos Dagliela Sei anni Digno Vagli in conto E sta cazzo di palla Devo andargli per forza In conto In manual Oh Madonna Roby Madonna Roby Suo Raga E' sua Ma anche a Roby Oh Messi Tribula Oggi Chi c'è? No No Non gliela lasciare Lì Vai Neymar Vai Neymar Buona Messi Ma che brutta Che brutta Brutta Messi Questa è bella Attenzione Messi contro Roberto Si rinnova il duello Alla meglio Messi Adesso Se ne va sul fondo Attenzione che Roby Però sa il fatto suo Neymar Porca puttana Pure la sfiga Raga Il reverse Che entra Si mette in proprio Neymar Danza sul pallone Neymar Madonna che giocatore Fotonico Vinicius Sei da togliere Brutta Brutta Ci prova 66 sul cronometro Partito in stallo Fallo Si prende il fallo Allora andiamo in pausa Entra il sium Al posto di Vinicius Minchia Neymar è bollito Neymar è bollito Neymar è bollito Devo farlo Raga Sale Digno Trequartista Lui E a centrocampo Chi ci mettiamo? Anzi Anzi Sapete che vi dico? Entra Romario Messi va a fare L'SP No E Romario Fa la punta Due riserve di lusso In campo adesso Regale Tutte e due Lì in avanti Sia Romarietto Sia il sium Vediamo se si attiva Se si bug Adesso Devo riuscire a portarmela A casa Raga Lui è un ex Prima divisione Sicuro Secondo me Porca puttana È uscito Lo stesso Sua 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 Alziamo un'attacca Equilibrato Dai Lui sta giocando Offensivo Vuole Vuole vincerla Romario Non va Non sguscia Romario Roby Tutta di là Pedri Sì Neymar Pedri Bellissima Il sium Che attacca Di prima Bella 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 Ci sta Fallo Punizione dal limite Attenzione Non c'è Neymar Ho messo Digno Ho messo Digno C'è Digno Raga C'è Digno Qua è vicino Allora Tentiamo sotto la barriera Raga Tentiamo sotto la barriera Il colpo dal cilindro Yes Yes Vamos Digno Che tira fuori il colpo dal cilindro Dopo è attacca giù adesso Dai Tutta di là Ok la sovra posizione Se mi dai lo zio Che è un po' più difensivo Di Ok Di Pedri Messi Non me lo da Di là Bella Il sium Di qua Arca puttana sto Raikard Da rega Digno Digno Sale in cattedra Digno Taglia il sium Bruttissimo Madonna che sfiga Occhio 10 più recupero Buona Buonissima Bruttissima Rimpallo Dietro Via Così Messi Roby Alla meglio Roby Sale in cattedra Porca puttana Che marcio Che botte risposta L'ho spostato anche io male Però L'ho spostato male 2-2 Non ci fa vincere il gioco Adesso Alessandro sa il fatto suo No Vai Pedri Vai su In mezzo Messi Dai Dai Romario però Che giocatore di merda Rapace d'aria Occhio adesso L'1-2 88 Adesso gli si gasa la squadra Vai 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 Prova Ciale Fino alla fine Così Bella Vai Messi Vai Messi E vabbè ma Roberto Carlos Cioè Fa sempre stazione qua Su sto lato qua Non adesso eh Non adesso eh E' finita Rega vabbè 2-2 Ci sta Ci sta Volevo vincerla 2-1 Ci sta Di sicuro è un ex prima divisione Non un seconda divisione Quindi si accetta Più volentieri Vediamolo Il buonale Allora Lo Scarsena non torna a vincere Ma non perde Prendiamolo come una vittoria Non si può sempre Non si può sempre vincere Rega Io so già che questo qui È un ex prima divisione Ma andiamo a vedere Vediamo dove militavo il buonale Allora ci toglie 4 punti Quindi è più scarso di noi In classifica credo eh Momentaneamente Non più scarso Non Cioè Non presunzione Allora Ezechiele Buonale Eh eh Vedete È un ex prima Anche lui Ci sta Allora facciamo la seconda di giornata Vediamo se riusciamo a recuperare i punti Rega Vediamo se riusciamo a recuperare i punti Io mi fumo Allora Tazziga Non accetta il matchmaking Avversario che non accetta Vediamo se startiamo di culo di nuovo le 5 tacche Vediamo Dai Konami Da quanto registro? 10 minuti Non c'è nessuno Konami non trova nessuno Adesso va a beccare il traiardone di turno Rega 2024 Questa è Konami 6 anni per trovare un giocatore Su EA avevo già fatto 4 partite Ma EA fa schifo E quindi ci teniamo il miglior videogioco di calcio in commercio È la verità Allora Dai però Dai Konami Una partita Alla Playstation Niente Marcatore Marcatore Gliel'ho dato a Billy No allo zio Procediamo Accettiamo Marcatore Marcatore muro Marcatore forse già ce l'aveva Gli ho dato un muro allo zio E si può giocare? Ma roba è dell'altro mondo Rega Senza ritagli Sotto gli occhi di tutti Impossibile connettersi con l'avversario Vai Ritenta Vediamo se siamo più fortunati Vediamo se siamo più fortunati Rega Ok 5 tacche veloci Va? Sì che va Tec Tekir Dug Vediamo a vedere come si presenta Lo Scarsenal Ok Dami Mbappé su Mbappé normale Lui Ok sulla carta Siamo un pelino più forti noi Adesso Ottima squadra anche la sua Digno out di destra Attenzione figo Attenzione figo Che Konami non è del mestiere L'ha fatto velocissimo Rega Velocissimo Allora lui è pronto Dai andiamo Vediamo se riusciamo a vincere Rega Seconda partita di giornata Anche lui è contro Piede veloce Xabi Alonso Fa che basse kickoff Buona visione Bedazzi E subito Dietro Salta Leo Buona Vinicius Vinicius Non ti fare marcare Ad ogni partita Miracolo Qua l'ha preso in mano Qua l'ha preso Qua non me l'ha data la schiena Attenzione che questo è più forte ancora di quello di prima E qua l'abbiamo preso invece Attenzione che questo è ancora più forte che di quello di prima Rega Non siamo in terza Siamo già in seconda Qui il livello sale Rega Attenzione la pulce che entra però E pareggia i conti 1-1 Palla al centro Vamos Attenzione che questo ad attaccare sa il fatto suo Taglia il campo digno e si mette in proprio Ancora digno Apparecchia per Neymar Che rientra sul destro Tutto chiuso Guardiol Un L2 Vierà Vierà Un intercetto Vierà Cioè non è che ti sto chiedendo una skill È il tuo mestiere Attenzione Messi che lo vedo in forma di grazia però Gli rimane lì Guarda che intervento ha fatto difensivamente parlando Minchia poteva entrare questa Sul mancino di Leo Messi Ha fatto una chiusura fotonica Chapeau al Brothers Chapeau al Brothers Inizio che la vuole Proseggia subito con Neymar Occhio che ha messo male lo Scarsenal No ha messo bene Adesso è messo male Perché Roby sale Tutta di là gliela può dare No taglia e mezzo Buona Alla è quadrato Quadrato Alla è così Se no lo prendi Zio Manuel ancora Porca puttana vola Sto figo di merda Baggatone del Guarda mamma mia le mie cappellate Ancora Emanuel Mi ha minchiata Lì è una minchiata Di sensazionale Lì è una minchiata Salta Vinicius Ma la fretta è in culo Da che non c'è nessuno Non la tiene Minchia la tiene Chi è? Attenzione che anche il suo Paolino Fa un altro mestiere Bellissima Bellissima Si porta avanti Si porta avanti di uno Lo Scarsenal Bella Faglielo brutto in mezzo a due Così Ne marchio rega Fraseggia con Digno Sale in cattola Lo Scarsenal adesso No No Pedri Di tre non ne hanno fatto uno Gli rimane lì Attenzione Ancora Gli rimane lì Madonna mia Madonna mia Oh è bravo eh Porca puttana Sto L2 Come lo usa Era già lì Maldini non uscire Guarda te che rimpalli di merda Ma chi rega? Madonna mia Che fatico sto game Si si volano Rega volano Dai Vola Ho già capito Ho già capito sto partito Che fatica rega Che fatica Che fatica Andiamo a secondo tempo Dai Noi siamo pronti Allora Non so se buttare dentro subito il Sium Proviamo prima Mbappé Proviamo prima Kylian Mbappé Ciao amore mio Proviamo prima Kylian E poi Gli ultimi minuti Magari buttiamo dentro il Sium Il risultato per il momento è favorevole Ma è un attimo Rega È un attimo Allora Lui è pronto Andiamo a giocarcela Dai Beh si Bella Ma non lo sculo io Ho un rimpallo Che mi rimane lì Si è fermato il giocatore Si è fermato forse Rega Cioè ho visto che Non ha senso di esistere No eh È uscita la rotellina Di football Rega Speriamo che non mi crasha Sta crashando Rega Spero che sia lui A quittare la partita E ci da No No Cazzata Cazzata potonica E adesso sta giocando Il brothers Fallo Si piglia il fallonei Sua 3-4 Offensive out Di sinistra Vediamo uno schema Da allungare le distanze Tipo digno Che se la viene a prendere Dietro Tutta di qua Ma non lì Ma non lì Occhio a contropiede Ha messo benissimo Lui eh Ha messo benissimo Il brothers Chiglia È già lì È già lì Rega È già lì Qui siamo già noi Con Maldini Messi che fa il velo Vinicius No vabbè Brutta 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 Non entrano i passaggi Rega Non entrano i passaggi Perché in auto Ma Ha fatto un golasso Rega Ha fatto un golasso Tutto di prima Rummenig pareggia i conti Adesso c'è da faticare Rega Adesso c'è da faticare Veramente Adesso alzo le tacche Madonna mia Madonna mia Che marcio Rega Miracolo in mano Che marcio Dove gliel'ha lasciata Si che ero messo malissimo Col corpo Come stare buono Vierà inesistente Rega Vierà È praticamente inesistente In sta partita Porca puttana Cosa toglie Forte è questo Vierà il suo È Sempre al posto giusto Un altro pareggio Potrebbe arrivare Un altro pareggio Madonna Vierà Che a lui Gli entra L2 Dai via Buona L'abbiamo sculata L'abbiamo sculata L'abbiamo sculata Non dico tanto Uno Dietro 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 Chi c'è? Kilian Salta Buona Di qua Bella 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 Dagliela bene Bellissima Maldini però Maldini Patrick Neymar Ronaldinho Neymar Bella Se la Dombapè me la intercetta Quadrato X Occhio Occhio C'è il buco Che buco Vigno Non entra Non entra 5 minuti 5 minuti più Recupero Bellissima Entrata Passaggio Immenso Bravo Tienila lì Tienila lì 87 3 più Recupero Appoggiati a Pedri Bravo Pedrito No No L'ho visto Che ha Switchato Ho un rimpallo Non mi dà Attenzione Attenzione Sti minuti Via Quadrato Due minuti di recupero Doppia attacca giù La voglio vincere Questa Non uscire Stai Aspettalo Aspettalo Partita sofferta Ce la siamo portata a casa 3 a 2 Vediamo quanti punti ci dà E dove militava il brothers Secondo me è più alto Dell'altro Ex prima divisione Anche lui Andiamo Allora ci dà 28 punti 1.640 Recuperiamo quelli di prima Mancano 150 punti Al gradino più alto Del podio Il nostro avversario Militava in Ex prima Ex prima No più o meno Quello è il livello Ma lui Secondo me Questo qui era più forte Senza nulla Togliere al buon Ale Allora torniamo indietro Regà La situazione è questa Martedì Domani il registo Vediamo se riusciamo A migliorarci ancora Lo scarso Alza la testa E torna a vincere Quindi quello che Ho anticipato Nell'intro Regà Il dovere Chiama a farlo Saluti Per la community Fotonica Apriamo il mio ultimo video Bedazzi Dov'è Allora Il mio ultimo video È questo qui Quindi regà I saluti Vanno al buon Alfio MT66 Benvenuto Buona permanenza Brothers Maurizio Vigo Otto Ucage Che è il buon Michelino Santiago Del Rio Per gli amici Magico Cagliari Poi salutiamo Lion46 CT Buon Lucchino Un altro Lucchino Luca Celli Sempre presente CR Pizzeta Questo qui È il buon Stefano Moschetti Un nuovo iscritto Che non ha un ID User OV 4L Come cazzo Si chiama Poi sempre Stefanuzzo Roberto Cusanno Anche lui Grandissimo Ale Uleit Piscuetto Grandissimo Piscuetto Che è entrato anche nel mio gruppo Telegram Mi ripeto Regà Gruppo Telegram Che trovate in descrizione Del video Se volete venire a condividere la vostra passione Siete tutti benvenuti Poi I saluti vanno al buon Marco Laurentino Enzo Fiumaro Gumpari Un altro user Poi Matteo Chianese Buon figlio immobiliare Antonio Direttamente dalla Calabria Gigi Gallo Mircuzzo Erpete Aspetta che qui deve caricare Perché non c'ho neanche internet attivo Pensa come sono piazzato Attiviamo internet Vediamo che Se refresh Altri commenti Vediamo eh Ce la facciamo Ok Mircuzzo Erpete Rosario Youtube 05 Saverio Zazzacosto Cumpari Gianluca Giacchino Alex Eld E per i saluti Per il momento è tutti Regà Siete tutti fotonici Grazie mille in anticipo Per il supporto che ci sarà In questo video Il video giunge al termine Beddazzi Se sei arrivato fino a questo punto del video Il tuo allebem In primis ti ringrazio In secondis ti saluto E ti rinnova l'appuntamento A un prossimo contenuto Sui football Ciao Beddazzi PlayStation PlayStation Grazie.